La prospettiva Niewski Gogol A Pietroburgo Non c'è niente di meglio della prospettiva Niewski. E sai tutto. Di cosa non brilla questa strada, meraviglia della nostra capitale? So con certezza che non uno dei pallidi abitanti cambierebbe la prospettiva Niewski con tutti i beni della terra. Non solamente chi è giovane, magnifici baffi e un sopravvito dal taglio perfetto, ma anche chi si vede già spuntare sul mento i peli bianchi e ha la testa liscia come un piatto d'argento, va in estasi davanti alla prospettiva Niewski. E le signore! Per le signore la prospettiva Niewski è qualcosa di ancora più piacevole. E per chi del resto non è piacevole? Non appena la imbocchi, non senti altro che odore di passeggio. Anche se hai un affare importante e improrrogabile da sbrigare, ecco che dopo averci messo piede, te ne dimentichi subito. Questo è l'unico luogo dove la gente non si fa vedere perché spinta dal bisogno e dall'interesse che coinvolgono l'intera Pietroburgo. Sembra che le persone incontrate sulla prospettiva Niewski siano meno egoiste che non sulla Moscaia, sulla Grosovia, sulla Leteinaia, sulla Moskanskaia e su altre vie dove l'avidità, il profitto e il bisogno si manifestano sia in quelli che camminano, sia in quelli che volano in carrozze e calessini. La prospettiva Niewski è il punto universale di confluenza di Pietroburgo. Qui l'abitante del rione Peterburski o del rione Viborskoi, che per vari anni non è andato a trovare il suo amico a Peschi o alla barriera di Mosca, può star certo che lo incontrerà, senza possibilità di errore. Nessun bollettino e nessun ufficio informazioni procureranno mai notizie così sicure come la prospettiva Niewski. Onnipotente prospettiva Niewski! Come sono spazzati con cura i tuoi marciapiedi e, Dio mio, quanti piedi vi hanno lasciato le loro orme! Il rozzo sudicio stivale del soldato in congedo, sotto il cui peso sembra doversi incrinare persino il granito. La minuscola scarpetta, leggera come il fumo della giovane donna che, come il girasole all'astro, volge il viso verso le vetrine scintillanti di un negozio. La sciabola tintinnante dell'alfiere, pieno di speranze, che vi lascia un graffio. Sulla prospettiva Niewski, tutto contribuisce a fondere il potere della forza e il potere della debolezza. Quale veloce fantasmagoria si svolge nel corso di una giornata? Quanti mutamenti! In sole ventiquattro ore! Cominceremo dal primissimo mattino, quando tutta Pietroburgo odora di panini ancora caldi, appena sfornati, ed è invasa da vecchie inabiti e pellicciotti laceri che compiono le loro incursioni nelle chiese e contro i passanti pietosi. La prospettiva Niewski è vuota. I solidi proprietari dei negozi e i loro commessi dormono ancora nelle loro camicie di tela d'Olanda oppure insaponano le nobili guance e bevono il caffè. I medicanti si radunano davanti alle porte delle pasticcerie, dove un garzone sonnolento, che il giorno prima svolazzava come una mosca, servendo la cioccolata, adesso esce Fultivo, senza cravatta, con una scopa in mano e butta loro dei pasticcini raffermi e altri avanzi di cibo. La povera gente si trascina per le vie. A volte passano dei contadini russi che si affrettano al lavoro con stivali così inzaccherati di fango che nemmeno il canale Yekaterinsky, pur celebre per la sua pulizia, riuscirebbe a lavare. A quest'ora di solito non sta bene che le signore escano di casa, perché il popolo russo ama esprimersi con termini così violenti che non si odono nemmeno in teatro. Ogni tanto, se la prospettiva Yevsky si trova sul suo tragitto alla volta del suo ufficio ministeriale, si vedrà passare un funzionario sonnacchioso con la borsa sotto braccio. Si può dire senz'altro che a quest'ora e sino alle dodici la prospettiva Yevsky per nessuno rappresenta un fine, ma serve soltanto come mezzo. A poco a poco essa si riempie di persone che hanno occupazioni, preoccupazioni, fastidi, ma non pensano per nulla alla strada. Il contadino russo parla di grivnie, ovvero di monete di rame da sette centesimi. Vecchi e vecchie agitano le braccia e parlano da soli, talvolta con gesti bizzarri. Ma nessuno li ascolta e neppure ride, esclusi forse i ragazzini in camicciotti valiopinti che corrono come fulmini per la prospettiva Yevsky con bottiglie vuote e stivali da consegnare. A quest'ora, qualunque cosa vi mettiate addosso, abbiate pure in testa un berretto al posto di un cappello o sporga troppo il colletto rispetto alla cravatta, nessuno lo noterebbe. Alle 12 arrivano gli istruttori di tutte le nazionalità con i loro pupilli dai colletti di Batista. Gli inglesi Jones e i coq francesi vanno a braccetto con i discepoli affidati alla loro tutela e con rispettabile gravità spiegano che le insegne sopra ai negozi sono fatte allo scopo di sapere che cosa si trova nei negozi. Le governanti pallidemis o rose slave camminano maestose dietro le loro sottili e requiete fanciulle alle quali ordinano di tirare giù una spalla o di tenersi più dritte. Insomma, a quest'ora la prospettiva Yevsky è una prospettiva pedagogica ma quanto più ci si avvicina alle due tanto più diminuisce il numero degli istruttori dei pedagoghi e dei bambini finché ad essi subentrano i loro cari genitori che camminano sotto braccio alle variopinte e isteriche consorti. A poco a poco si uniscono alla compagnia tutti quelli che hanno terminato importanti occupazioni domestiche e cioè hanno chiacchierato con il dottore a proposito del tempo e di un piccolo foruncolo comparso sul naso. Si sono informati della salute dei cavalli e dei figli che peraltro rivelano grandi doti. Hanno letto un affisso e un importante articolo sul giornale a proposito di chi arriva o di chi parte e infine hanno bevuto una tazza di caffè o di tè. Ad essi si aggiungono anche quelli a cui una sorte invidiabile ha dato il titolo di funzionario con incarichi speciali. Arrivano poi coloro che prestano servizio al ministero degli esteri e si distinguono per la nobiltà delle loro occupazioni e abitudini. Dio quali magnifici impieghi e incarichi esistono come elevano e deliziano l'anima ma ahimè io non presto servizio al ministero degli esteri e sono quindi privato del piacere di vedere il fine tratto dei superiori nei miei confronti. Tutto ciò che si incontra sulla prospettiva Nevsky è pervaso di distinzione. Uomini dai lunghi sopraviti con le mani sprofondate nelle tasche signori redningot di raso rosse bianche e celeste chiaro con cappellini incontrerete basettoni davvero unici fatti scendere sotto la cravatta con arte stupefacente e straordinaria basettoni di velluto di raso neri come lo zibellino o il carbone però ahimè appartenenti soltanto al ministero degli esteri agli impiegati degli altri ministeri la provvidenza ha negato i basettoni neri con sommo disappunto essi debbono portarli fulvi incontrerete baffi meravigliosi che nessuna penna nessun pennello sanno raffigurare baffi ai quali è stata dedicata la metà migliore della vita oggetto di lunghe cure durante il giorno e durante la notte baffi sui quali sono stati versati profumi e aromi tra i più sorprendenti e che tutte le più preziose e rari qualità di unguenti hanno impomatato baffi che durante la notte vengono avvolti infine carta velina baffi a cui sono rivolte le più commoventi attenzioni dei loro possessori e che i passanti invidiano ognuno sulla prospettiva nevski è poi abbagliato dalle mille varietà di cappellini abiti di fazzoletti variopinti e leggeri ai quali le rispettive proprietarie restano a volte affezionate anche per due giorni sembra che un intero mare di farfalle si sia sollevato improvvisamente dai fiori e si libri come una nuvola cintillante sopra gli scarafaggi neri che sono gli uomini incontrerete vitini come non avete mai sognato vitini esili sottili non più grossi di un collo di bottiglia vedendo i quali vi fate rispettosamente da parte perché non si dia il caso di urtarli inavvertitamente con un gomito scortese il vostro cuore è preso dalla timidezza e dal timore che magari anche soltanto un vostro incauto respiro possa infrangere queste incantevoli creazioni della natura e dell'arte e quali maniche femminili incontrate sulla prospettiva Nevsky ah che incanto esse assomigliano un poco a due aerostati tanto che la dama potrebbe d'improvviso sollevarsi in aria se non la tenesse il suo cavaliere poiché sollevare in aria la dama è facile e piacevole come portare alle labbra una coppa di champagne e nessun luogo come sulla prospettiva Nevsky incontrandosi chi si saluta in modo così nobile e disinvolto qui troverete un sorriso unico un sorriso all'apice dell'arte che può farvi liquefare dal piacere oppure al contrario farvi sentire a un tratto più in basso dell'erba costringendovi a chinare il capo oppure ancora trasportarvi più in alto della guglia dell'ammiragliato e farvi sollevare la testa incontrerete gente che discute di un concerto o del tempo con termini eccezionalmente nobili e senso della propria dignità qui incontrerete migliaia di caratteri e di fenomeni incomprensibili creatore in quali strani caratteri ci si imbatte sulla prospettiva nevski c'è una quantità di gente che incontrandovi immancabilmente vi guarderà le scarpe e quando voi passate oltre si volterà indietro per guardare le vostre falde ancora oggi non riesco a capire perché questo accada in un primo tempo pensavo si trattasse di calzolai eppure non è così per la maggior parte sono persone che prestano servizio in ministeri molte di loro possono scrivere in modo stupendo un rapporto da un ufficio statale a un altro oppure sono persone che come occupazione vanno a passeggio leggono i giornali nelle pasticcerie insomma per la maggior parte persone proprio a modo nell'ora benedetta dalle due alle tre del pomeriggio quando la prospettiva a Nevsky può definirsi una capitale che deambula ha luogo la principale esposizione delle migliori opere dell'uomo uno mostra un elegante soprabito del miglior castoro un altro un magnifico naso greco un terzo porta splendidi basettoni una quarta ha un paio di occhi assassini e un mirabile cappellino un quinto un anellino con talismano sull'elegante mignolo una sesta un'incantevole scarpetta un settimo una cravatta che eccita lo stupore un ottavo dei baffi che suscitano la tua grande ammirazione suonano le tre l'esposizione finisce la folla si dirada e sulla prospettiva Nevsky l'improvviso sorge la primavera la strada si ricopre di funzionari in uniformi verdi affamati consiglieri titolari consiglieri di corte ed ogni altro genere si sforzano con tutte le loro energie di accelerare il passo i giovani registratori di collegio i segretari provinciali e di collegio si affrettano ad approfittare del tempo che resta e a passeggiare per la prospettiva Nevsky con sussiego dando a vedere che non sono stati affatto sei ore in ufficio i vecchi segretari di collegio e consiglieri titolari e di corte camminano svelti essi hanno altro da fare che dedicarsi alla contemplazione dei passanti ancora non si sono pianamente distaccati dalle loro preoccupazioni nelle loro teste c'è un guazzabuglio c'è un intero archivio di pratiche cominciate e non finite invece di un insegno per molto tempo essi vedono ancora quella cartella piena di incartamenti con la faccia grassoccia del capufficio dopo le quattro la prospettiva Nevsky è vuota e difficilmente vi troverete anche un solo impiegato magari la sartina di un negozio attraversa la prospettiva con uno scatolone fra le mani qualche misero relitto di capufficio umanitario che va in giro per il mondo in cappotto di Frisia qualche stravagante di passaggio per il quale tutte le ore sono uguali qualche allampanata inglese con la reticella in testa e un libro in mano qualche artigiano uomo russo in sopravito di mezzo cotone stretto dietro e la barbetta a punta che vive una vita distenti mentre passa cerimoniosamente sul marciapiede tutto in lui è in movimento la schiena le braccia le gambe la testa talvolta troverete anche il lavoratore di fatica ma a quell'ora sulla prospettiva Nevsky non incontrerete nessun altro non appena cade il crepuscolo sulle cose e sulle strade e la guardia riparandosi sotto una stuoia s'arrampica sulla scala ad accendere il lampione e dalle basse vetrinette dei negozi occhieggiano quelle stampe che non osano mostrarsi alla luce del giorno allora la prospettiva Nevsky di nuovo si rianima e si mette in movimento ecco che arriva quel momento misterioso in cui le lampade danno ad ogni cosa una certa luce seducente misteriosa incontrerete moltissimi giovani per la maggior parte scapoli insoprabiti pesanti e cappotti a quest'ora si avverte un certo scopo nel passaggio o meglio qualcosa di simile ad uno scopo c'è un'aria straordinariamente spensierata i passi di tutti accelerano e in genere si fanno assai irregolari lunghe ombre balenano sui muri e sul selciato e per poco non raggiungono con le loro teste il ponte della polizia i giovani registratori di collegio i segretari di provincia e di collegio i consigliari titolari e di corte stanno per lo più a casa sia perché questa gente è ammogliata sia perché le cuoche tedesche che vivono nelle loro case cucinano molto bene incontrerete invece rispettabili vecchi che per due ore passeggiano a lungo la prospettiva Nevsky con un'aria di grande importanza e di straordinaria nobiltà li vedrete sbirciare sotto il cappellino di una signora adocchiata da lontano e cui grosse labbra e le guance impiastriciate di belletti tanto piacciono a molti uomini che vanno a passeggio e più di tutto ai commessi di negozio agli artigiani ai mercanti ai mercanti che a passeggio ci vanno sempre in gruppo e solitamente a braccetto indossando soprabiti di taglio tedesco fermati gridò in quel momento il tenente Piro Goff dando uno strattone al giovane in frac e mantello che camminava con lui l'hai vista? l'ho vista è stupenda proprio come la bianca del perugino ma tu di chi stai parlando? di lei di quella con i capelli scuri e che occhi Dio che occhi tutto il portamento e i lineamenti e l'ovale del viso un portento io invece parlo della bionda che è passata dietro di lei da quella parte ma perché non segui la bruna se ti è piaciuta tanto? com'è possibile? esclamò il giovane in frac arrossendo come se fosse una di quelle che battono di sera la prospettiva lei deve essere una signora alto locata continuò con un sospiro soltanto il mantello che ha indosso costa 80 rubli ingenuo gridò Piro Goff spingendolo dalla parte dove sventolava il mantello vivace della signora brigati sciocco altrimenti ti scappa io intanto seguo la bionda i due amici si separarono vi conosciamo bene noi pensava tra sé Piro Goff con un sorriso presuntuoso e soddisfatto convinto che non ci fosse bellezza che potesse resistergli il giovane con frac e mantello si avvicinò con passo timido e trepidante nella direzione in cui sventolava il mantello variopinto che mandava riflessi brillanti quando si avvicinava alla luce di un lampione e di colpo si ricopriva di tenebra quando se ne allontanava il cuore gli batteva e senza volerlo accelerò il passo non osava nemmeno pensare di poter ottenere un qualche diritto all'attenzione della bella donna che svolazzava lontano e tanto più da mettere un pensiero così nero come quello a cui aveva accennato il tenente Piro Goff voleva soltanto vedere la casa osservare dove abitava quella deliziosa creatura che pareva essere caduta direttamente dal cielo sulla prospettiva Nevsky e sicuramente sarebbe poi volata chissà dove anche lui andava così rapido che di continuo sospingeva giù dal marciapiede gravi signori coi basettoni bigi il giovane faceva parte di una categoria che da noi costituisce un fenomeno alquanto strano e non appartiene alla cittadinanza di Pietroburgo più di quanto una persona che ci appare in sogno non appartenga al mondo reale questo ceto eccezionale è assai insolito in questa città dove tutti sono funzionari mercanti o artigiani tedeschi è infatti un artista uno strano fenomeno non è vero un artista Pietroburgese un artista nella terra delle nevi un artista nel paese dei finni dove tutto è umido piatto uguale grigio nebbioso questi artisti non assomigliano affatto agli artisti italiani fieri e focosi come l'italia e il suo cielo al contrario si tratta per la maggior parte di gente buona emite timida indolente che ama in silenzio la propria arte che beve il tè con un paio di amici in una piccola stanza che discute con modestia dell'oggetto amato e disprezza in modo assoluto il superfluo eternamente invita in casa qualche vecchia mendicante e la obbliga a star seduta per sei ore buone al fine di trasferire sulla tela la sua misera e insensibile faccia disegna la prospettiva nella propria stanza dove si trova ogni genere di cianfusaglia artistica mani e piedi di gesso divenuti colore del caffè per il tempo e la polvere cavalletti spezzati una tavola rovesciata un amico che suona la chitarra pareti sporche di colori la finestra spalancata oltre la quale si scorgono la pallida neva e poveri pescatori con le camicie rosse in quasi tutto ciò che fanno domina un torbido colore grigio impronta incancellabile del settentrione con tutto ciò essi si dedicano con vera gioia al loro lavoro non di rado coltivano un autentico talento e se soltanto soffiasse su di loro l'aria fresca dell'Italia si svilupperebbero in modo libero ampio e luminoso come una pianta che da una camera viene finalmente esposta all'aria aperta in genere sono molto timidi una decorazione o una spallina dorata li mettono in un tale smarrimento che senza volerlo abbassano il prezzo delle loro opere talvolta amano far sfoggio d'eleganza ma su di loro l'eleganza sembra sempre troppo vistosa e può dare l'impressione di un rattoppo a volte li vedete con un ottimo frac e un mantello sudicio con un costoso panciotto di velluto è una finanziera sporca di colori nella stessa maniera in cui su di un loro paesaggio non finito certe volte scorgete una ninfa disegnata con la testa in giù perché non trovando altro spazio l'artista l'ha bozzata sullo sfondo sporco di un'opera precedente che un tempo aveva dipinto con soddisfazione non vi guardano mai dritto negli occhi e se vi guardano lo fanno in modo vago indeterminato non vi trafiggono con lo sguardo d'avvoltoio dell'osservatore o con lo sguardo di falco dell'ufficiale di cavalleria questo avviene perché loro vedono nello stesso tempo i lineamenti vostri e i lineamenti di qualche ercole di gesso che sta nella loro stanza oppure perché appare loro un quadro che per il momento soltanto immaginano di realizzare per questo rispondono spesso in modo sconnesso a volte a sproposito perché gli oggetti che si confondono nella loro testa aumentano ancor più la loro timidezza a questa estirpe appartiene il giovane da noi descritto l'artista Piscareff contegnoso timido ma che porta nella sua anima faville di sentimento pronte a trasformarsi in fiamma alla prima occasione favorevole con segreta trepidazione si affrettava dietro l'oggetto che l'aveva tanto fortemente colpito e pareva stupirsi lui stesso della propria temeralietà l'ignota creatura verso la quale erano così fortemente attratti i suoi sguardi pensieri e sentimenti ad un tratto voltò la testa e lo guardò Dio che divini lineamenti la deliziosa fronte da bagliante candore ombreggiata da capelli stupendi come l'agata essi si avvolgevano in riccioli meravigliosi e una parte cadendo di sotto al cappellino sfiorava una guancia soffusa ad un lieve rossore causato dalla frescura serale le labbra suggellate da un intero sciame di deliziosi sogni tutto ciò che resta dei ricordi dell'infanzia tutto ciò che produce la fantasticheria e la quieta ispirazione davanti al lume della lampada tutto ciò sembrava essersi concentrato fuso e riflesso nelle armoniose labbra la donna guardò Piscaref e a questo sguardo il cuore di lui tremò aveva guardato con severità nell'espressione del viso un sentimento di indignazione per un inseguimento così sfrontato ma su quel viso meraviglioso persino l'ira era affascinante colto da vergogna e da timidezza egli si fermò ad occhi bassi come perdere quella divinità e non conoscere neppure il sacrario dove sarà abbassata ad alloggiare decise di continuare l'inseguimento ma per non farsi scoprire lasciò una certa distanza e si mise a guardare distrattamente di qua e di là ad osservare le insegne senza tuttavia perdere di vista neanche un solo passo della sconosciuta i passanti cominciarono a farsi più radi la via diventava più tranquilla la bella si guardò intorno ed egli ebbe l'impressione che un leggero sorriso brillasse sulle sue labbra cominciò a tremare non credeva ai propri occhi no era quel lampione che con la sua ingannevole luce aveva disegnato sul volto di lei un simile sorriso no erano gli stessi suoi sogni che si facevano beffa di lui il respiro gli mancò tutto dentro di lui si trasformò in un vago tremito tutti i suoi sentimenti presero fuoco e tutto davanti a lui s'avvolse in una specie di nebbia il marzapiede correva sotto di lui le carrozze con i cavalli galoppanti sembravano immobili il ponte si allungava e si spezzava al culmine dell'argata la casa aveva il tetto in giù la garitta gli crollava addosso e la labarda della sentinella sembrava scintillare proprio sulle ciglia dei suoi occhi insieme con le parole dorate dell'insegna e con le forbici che verano disegnate e tutto questo l'aveva prodotto un solo sguardo un solo movimento della graziosa testa senza udire senza vedere senza percepire e gli correva sulle orme leggere dei meravigliosi piedini sforzandosi di moderare la velocità del proprio passo che volava col ritmo del cuore neppure si accorse che a un tratto dinanzi a lui era sorta una casa di quattro piani e che le quattro file di finestre scintillanti di luce lo guardavano tutte insieme e la ringhiera presso l'ingresso lo respingeva con ferrea fermezza lo assalì il dubbio l'espressione del viso di lei era davvero così benevola come sembrava si fermò per un istante ma il battito del cuore la forza invincibile e l'ansia di tutti i suoi sensi lo spinsero avanti vide la sconosciuta correre su per la scala voltarsi portare un dito alle labbra e fargli segno di seguirla gli tremarono le ginocchia i sensi i pensieri bruciavano un lampo di gioia penetrò nel suo cuore con una fitta intollerabile no non era più un sogno dio quanta felicità in un istante quanta meravigliosa vita in due minuti non stava sognando possibile che quella donna per la quale era pronto a dare tutta la vita pur di ottenerne uno sguardo e il cui pensiero gli procurava un'inesprimibile beatitudine non appena si avvicinava alla sua abitazione possibile che adesso fosse così benevola e premurosa nei suoi confronti salì volando le scale non nutriva alcun pensiero terreno non era scaldato dalla fiamma di una passione terrena no in quel momento era puro e immacolato come una vergine adolescente che ancora respira un'indistinta ecigenza spirituale d'amore e ciò che in un uomo corrotto avrebbe citato intenzioni sfrontate proprio ciò al contrario santificava ancora di più i suoi pensieri questa fiducia che gli dimostrava la debole magnifica creatura questa fiducia gli imponeva l'obbligo di un rigore cavalleresco l'obbligo di eseguire come uno schiavo tutti i suoi comandi desiderava soltanto che questi comandi fossero i più ardui possibili difficili da eseguire per poter volare a superarli con la maggior tensione delle sue energie non dubitava che qualche evento segreto insieme vitale avesse indotto la sconosciuta ad affidarsi a lui che da lui di certo sarebbero stati sollecitati importanti servigi e già avvertiva in sé la forza e la decisione a tutto la scala s'avvolgeva e insieme con essa s'avvolgevano i suoi veloci sogni state attento nel salire e che giò come un'arpa la voce e riempì tutte le sue vene di nuova trepidazione alla buia sommità del quarto piano la sconosciuta bussò a una porta essa si aprì ed entrarono insieme una donna d'aspetto abbastanza piacevole li accolse con una candela in mano ma guardò in modo così strano e sfrontato piscaref e senza volerlo egli abbassò gli occhi entrarono in una stanza ai suoi occhi apparvero tre figure femminili negli angoli una disponeva su un tavolo delle carte un'altra era seduta al pianoforte e suonava con due dita qualcosa che rassomigliava miseramente a un'antica polneis la terza era seduta davanti a uno specchio e pettinava i suoi lunghi capelli senza che la sfiorasse il pensiero di interrompere la propria toilette all'ingresso dello sconosciuto su tutto regnava un inverosimile disordine come si può trovare soltanto nella stanza di uno scapolo indolente i mobili abbastanza belli erano coperti di polvere un ragno aveva intessuto la sua tela sul cornicione scolpito attraverso la porta socchiusa che dava in un'altra stanza si vedeva luccicare uno stivale con uno sperone e rosseggiare il colletto di un uniforme una fragolosa voce maschile e una risata di donna risuonarono senza alcun ritegno dio dove era capitato non volle crederci e cominciò ad osservare più attentamente gli oggetti che riempivano la camera ma le pareti spoglie e le finestre senza tendine non indicavano in alcun modo la presenza di un'ordinata padrona di casa le facce sciupate di quelle creature una delle quali stava seduta quasi sotto il suo naso e lo guardava con l'imperturbabilità con cui si guarda una macchia su un vestito altrui tutto questo lo persuase che era capitato nel ripugnante asilo dove dimora la dissolutezza generata da un'educazione sbagliata e dal terribile affollamento della capitale l'asilo in cui l'uomo calpesta e delide tutto ciò che è puro e santo che rende bella la vita dove la donna questa bellezza del mondo questa corona della creazione si trasforma in un essere strano e ambiguo insieme con la purezza dell'anima e saperde tutto ciò che è femminile assimila in maniera ripugnante i modi e le villanie dell'uomo e cessa ad essere una debole creatura così meravigliosa e così diversa da noi Piskarev la misurava dalla testa ai piedi con occhi stupiti come se non volesse convincersi che era lei quella che l'aveva stregato e fatto correre sulla prospettiva Nevsky la donna gli stava di fronte bella come prima gli occhi apparivano celesti come prima era giovane poteva avere 17 anni si vedeva che la corruzione l'aveva toccata da poco tempo e che non era giunta a sfiorarle le guance che erano fresche e soffuge da un delicato rossore era stupenda gli stava immobile in piedi dinnanzi a lei ed era già pronto a dimenticare tutto ingenuamente così come aveva dimenticato prima a quel punto la bella si stancò di quel lungo silenzio e sorrise in maniera allusiva guardandolo dritto negli occhi aveva un sorriso strano pieno di narme impudenza e tanto poco si addiceva al suo viso quanto un'espressione devota alla grinta di un usuraio o un libro di conti a un poeta piscarev sussultò lei dischiuse le graziose labbra e iniziò a dire qualcosa ma tutto ciò che diceva era così stupido così volgare come se con l'innocenza avesse perduto anche l'intelligenza non volevo dire più nulla fu straordinariamente ingenuo e ridicolo come un bambino invece di approfittare di tanta benevolenza e rallegrarsi di un caso simile come chiunque altro al suo posto avrebbe senza dubbio fatto scappò via a gambe levate come una capra selvatica e si precipitò nella strada a testa bassa e le braccia abbandonate se ne stava seduto nella sua stanza come un poveraccio che abbia trovato una perla inestimabile e subito gli sia ricaduta in mare come era bella che divini lineamenti e dove e in che posto ecco tutto ciò che riusciva a mormorare in realtà mai la compassione ci assale così fortemente come alla vista della bellezza contaminata dall'alito della corruzione fosse almeno la deformità a convivere con questa ma la bellezza nei nostri pensieri si fonde solamente con l'innocenza e la purezza la donna che aveva stregato il povero Piskareff era effettivamente stupenda eccezionale la sua presenza in quell'ambiente spregevole sembrava ancora più straordinaria tutti i lineamenti erano così finemente modellati l'espressione del suo meraviglioso viso improntata a tale nobilità che era impossibile pensare che la corruzione avesse allungato sopra di lei i suoi terribili artigli avrebbe potuto essere l'inestimabile perla tutto l'universo tutto il paradiso tutta la ricchezza di un marito appassionato avrebbe potuto essere la meravigliosa e tranquilla stella di un poco appariscente circolo familiare e con un solo movimento delle sue incantevoli labbra dare dolci disposizioni avrebbe potuto essere una divinità in una sala affollata sul parquet luminoso nello scintillio delle candele fra la muta venerazione degli adoratori prostrati ai suoi piedi e invece ahimè per la mostuosa volontà ad uno spirito infernale avido di distruggere l'armonia della vita con un ghigno era stata gettata nell'abisso pervaso da una straziante compassione egli continuava a stare seduto davanti alla candela che bruciava era passata la mezzanotte la campana della torre batte la mezz'ora ed egli sedeva immobile senza dormire vegliando senza scopo la sonnolenza approfittando della sua immobilità cominciava pian piano a vincerlo la stanza cominciava a scomparire soltanto il lume della candela traspariva attraverso i sogni che lo sopraffacevano quando ad un tratto un colpo alla porta lo fece trasalire e tornare in sé la porta si aprì ed entrò un servitore che indossava una ricca livrea mai nella sua stanza solitaria sarà affacciata a una ricca livrea e per di più a un'ora così insolita egli rimase perplesso guardando con impaziente curiosità il servitore quella signora disse con un rispettoso inchino il servitore dalla quale vi siete degnato di recarvi alcune ore fa ha ordinato di pregarvi di andare da lei e ha mandato la carrozza a prendervi Piscareff era in piedi in preda allo stupore la carrozza il servitore in livrea no di sicuro lì c'era uno sbaglio sentite carissimo rispose con timidezza di certo non era qui che dovevate venire senza dubbio la signora vi ha mandato da qualcun altro non da me non mi sono sbagliato siete voi che vi siete degnato ad accompagnare a piedi la signora fino alla casa sulla liteinaia in una camera del quarto piano no sì io bene allora favorite al più presto la signora desidera assolutamente vedervi e vi prega di favorire a casa sua Piscareff scese le scale di corsa in cortile c'era appunto una carrozza vi salì gli sportelli sbatterono le pietre del selciato rimbombarono sotto le ruote e gli zoccoli e la prospettiva illuminata delle case con le insegne splendenti volò via dietro i finestrini della carrozza Piscareff riflette per tutto il tragitto e non sapeva come spiegarsi quell'avventura una casa di proprietà la carrozza il servitore con la ricca livrea non riusciva in alcun modo a conciliare tutto questo con la camera al quarto piano con le finestre polverose e il pianoforte scordato la carrozza si fermò davanti a un ingresso lussuosamente illuminato e di colpo fu preso dallo sbigottimento per la fila di carrozze il chiacchiericcio dei cocchieri le finestre illuminate a giorno e le note di una musica il servitore lo fece scendere dalla carrozza e l'accompagnò rispettosamente in un vestibolo rischiarato da una lampada sfolgorante le colonne di marmo dove stava un portiere gallonato d'oro e i mantelli di pellizze sparsi qua e là un'aerea scalinata con le balaustre scintillanti odorosa di profumi correva verso l'alto era già su di essa stava già entrando nella prima sala quando si spaventò e indietraggiò ad un passo per il terribile affollamento l'eccezionale varietà dei visi lo gettò in un tale smarrimento gli sembrava che qualche demone avesse ritagliato tutto il mondo in un'infinità di pezzi diversi e poi avesse rimescolato tutti quei pezzi senza senso senza nesso scintillanti spalle femminili e frac neri lampadari lampade erei veli svolazzanti eterei nastri e il pingue contrabbasso che si affacciava dietro la balaustra dello stupendo coro tutto per lui era splendore mai in una sola volta aveva visto tanti rispettabili vecchi e anziani con le decorazioni sui frac signore che camminavano lievi orgogliose e graziose sul parquet oppure stavano sedute in fila mai aveva udito tante parole francesi e inglesi e per giunta i giovani in frac erano pieni di tanta nobiltà parlavano tacevano con tanta dignità sembravano incapaci di dire alcunché di superfluo scherzando così austeramente sorridendo così cortesemente parlavano basettoni magnifici sapevano abilmente mostrare le belle mani aggiustandosi la cravatta e le signore così eteree immerse in una beatitudine e in un'ebbrezza assolute abbassavano gli occhi in modo talmente seducenti che l'aspetto stesso dimesso e trassognato di Piskarev che per il timore si era appoggiato ad una colonna mostrava che gli era completamente sperduto in quel momento la folla tornò a un gruppo che ballava le fanciulle roteavano a volte in trasparenti creazioni di Parigi in abiti tessuti d'aria sfioravano con non curanza il pavimento con i piedini splendenti ed erano così leggere che sembrava volassero una di loro era certamente la più bella quella vestita nella maniera più sontuosa e scintillante tutta la sua persona esprimeva un gusto perfetto del quale ella pareva del tutto ignara guardava e non guardava la folla di spettatori che la torniava le lunghe cilia si abbassavano con indifferenza e lo scintillante candore del suo volto colpiva in modo ancora più abbagliante lo sguardo quando alchinarsi del capo un'ombra leggera ricopriva l'affascinante fronte pescaref fece ogni sforzo per aprirsi un varco nella gente e guardarla ma con suo sommo dispetto una testa immensa con scuri capelli ricciuti gliela nascose inoltre la folla lo stringeva così da vicino che egli non osava farsi avanti né retrocedere temendo in qualche modo di urtare un consigliere segreto ma ecco che riuscì alla fine a liberarsi e diede un'occhiata al proprio vestito desiderando rimettersi in ordine celeste creatore che era questo aveva indosso il soprabito e per di più tutto imbrattato di colore nella fretta di uscire sarà perfino dimenticato di cambiarsi di mettersi un abito decente arrossì e chinata la testa avrebbe voluto sprofondare gentiluomini da camera in scintillante uniforme saranno messi dietro di lui formando un muro compatto non desiderava altro che trovarsi il più lontano possibile dalla bella con quelle ciglia e la stupenda fronte con terrore alzò gli occhi per vedere se lei lo guardasse dio era proprio davanti a lui ma cos'era questo cos'era questo e lei gridò quasi a voce alta era proprio la giovane donna che aveva incontrato sulla prospettiva nevski e che aveva accompagnato fino a casa la donna sollevò le ciglia e guardò tutti col suo limpido sguardo ah 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 com'è bella poteva soltanto mormorare Piskarev con il fiato mozzo lei abbracciò con gli occhi tutta la cerchia di gente che a gara bramava ad attrarre la sua attenzione ma con una certa stanchezza e non curanza presto distolse lo sguardo e incontrò gli occhi di Piskarev cielo che paradiso dammi le forze creatore di sopportare tutto questo la vita non è in grado di contenerlo esso distruggerà e porterà via la mia anima lei gli fece un segno ma non con la mano non con un cenno del capo no quel segno apparve nei suoi occhi fatali e con un'espressione così sottile impercettibile che nessuno poteva vederlo ma lui vide e capì il ballo durò a lungo la musica esausta sembrava spegnersi e morire del tutto ma poi di nuovo esplodeva strideva e rimbombava finalmente fine la giovane andò a sedersi il petto si sollevava sotto la fine nube del velo la mano creatore che mano stupenda cadde su un ginocchio premette sotto di sé il raffinato abito che pareva aspirare musica e il delicato color lilla fece risaltare in modo ancor più visibile il candore di quella meravigliosa mano toccarla è nulla più nessun altro desiderio Piskarev stava in piedi vicino a lei dietro la sedia non osando parlare non osando respirare vi annoiate disse lei anch'io mi annoio vedo che voi mi odiate aggiunse abbassando le sue lunghe ciglia odiare voi io io avrebbe voluto dire Piskarev completamente sbarrito e di certo avrebbe detto un mucchio di parole sconclusionate ma in quel momento si avvicinò un camerlengo con osservazioni acute e piacevoli e un magnifico ciuffo ondulato in testa in modo abbastanza gradevole metteva in mostra una fila di denti discretamente belli e con ognuna delle sue spiritosaggini piantava un aguzzo chiodo nel cuore di Piskarev finalmente per fortuna uno dei presenti chiese qualcosa all'uomo com'è insopportabile tutto questo disse lei sollevando su Piskarev i suoi occhi celestiali andrò a sedermi dall'altra parte della sala siate là scivolò via tra la folla e scomparve come un pazzo e gli si aprì una passeggiata fra la folla e fu subito al suo fianco era seduta come una regina di tutte la migliore di tutte la più bella e lo cercava con gli occhi siete qui disse Piano sarò sincera con voi di certo vi sono sembrate strane le circostanze del nostro incontro ma come potete pensare che io appartenga a quella spregevole categoria di creature fra cui mi avete incontrato le mie azioni vi sembreranno strane ma io vi svelerò il mistero saprete aggiunse puntando gli occhi attenti su di lui non tradirlo mai saprò 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 in quel momento si avvicinò un uomo piuttosto anziano che si mise a parlare con lei in una lingua incomprensibile per Piscaref e le porse la mano e la guardò Piscaref con occhi supplichevoli e gli fece segno di restare al suo posto e di attendere il suo ritorno ma in preda all'impazienza egli non era in grado di ascoltare alcun ordine fosse pure dalle sue labbra si mosse per seguirla ma la folla li separò aveva perso di vista l'abito lilla passava con inquietudine da una stanza all'altra urtando senza misericordia tutti quelli che incontrava in tutte le stanze c'erano seduti degli alti papaveri che giocavano a whist immersi in un silenzio di morte in un angolo alcuni uomini anziani discutevano della superiorità della carriera militare rispetto a quella civile in un altro angolo uomini magnifici frac lasciavano cadere osservazioni leggere sull'opera in molti volumi di un poeta infaticabile viscarev sentì che un uomo anziano dall'aspetto rispettabile lo afferrava per un bottone del frac e chiedeva il suo giudizio su un'osservazione assai giusta che aveva fatta ma lui lo respinse senza neppure fare caso al fatto che quello aveva al collo un'onorificenza importante andò di corsa in un'altra stanza lei non era neppure lì e neppure in una terza dov'è datemela non posso vivere senza darle un'occhiata voglio sapere cosa intendeva dirmi tutte le sue ricerche restarono vane inquieto spossato si addossò ad un angolo e si mise a guardare la folla ma i suoi occhi tesi per lo sforzo gli presentavano le cose in modo sempre più confuso improvvisamente incominciarono ad apparirgli nettamente le pareti della sua camera solleva gli occhi davanti a lui stava il candeliere con la fiamma ormai quasi spenta sul fondo tutta la candela era consumata il seguo era colato sul tavolo dunque aveva dormito dio che sogno e che bisogno c'era di svegliarsi perché non era durato anche un solo minuto di più e certo lei sarebbe riapparsa una luce fastidiosa e sgradevole penetrò attraverso i vetri delle finestre la stanza era in preda di un torbido disordine com'era ripugnante la realtà che cos'è in confronto al sogno si spogliò in fretta e si mise a letto avvolgendosi nella coperta nel desiderio di richiamare per un istante le visioni del sogno che erano volate via il sogno non tardò a ritornare ma non gli mostrò ciò che voleva vedere ora compariva il tenente pirogoff con la pipa ora il custode dell'accademia ora il consigliere di stato ora la testa ad un finlandese alla quale un tempo aveva fatto il ritratto e altre ballordaggini del genere rimase a letto fino a mezzogiorno sempre cercando di dormire ma lei non comparve gli avesse almeno mostrato per un momento i suoi meravigliosi lineamenti fatto sentire solo per un momento il fruscio del suo passo leggero gli fosse almeno balenata d'innanzi la sua mano nuda candida come neve era seduto con un'aria affranta e disperata pieno soltanto della visione del suo sogno estraneo a tutto dimentico di tutto non pensava di metter mano a nulla i suoi occhi guardavano senza interesse senza vita nella finestra che dava sul cortile dove un sudicio acquaiolo versava dell'acqua che subito gelò nell'aria e risuonava la voce asinina di un venditore ambulante abiti vecchi compro ciò che era quotidiano ciò che apparteneva alla realtà colpiva stranamente il suo udito rimase così sino a sera quando si gettò con avidità nel letto combattea a lungo contro l'insonnia e finalmente la vinse di nuovo un sogno un sogno volgare abbietto dio abbi misericordia almeno per un momento almeno per un solo istante mostramela poi attese di nuovo la sera di nuovo si addormentò di nuovo sogna un funzionario che era nello stesso tempo un funzionario e un fagotto cosa intollerabile finalmente apparve lei la sua testolina e i riccioli la guardava per quanto poco tempo poi nebbia di nuovo un sogno stupido i sogni diventarono tutta la sua vita e da allora la sua esistenza prese uno strano andamento si può dire che dormisse quando era sveglio e vivesse quando dormiva se qualcuno lo avesse visto sedere in silenzio davanti al tavolo vuoto o camminare per strada certamente l'avrebbe preso per un sonnambulo o per un uomo distrutto dall'eccessivo bere il suo sguardo diventò del tutto privo d'espressione la sua innata svagatezza prese alla fine il sopravvento e fugò imperiosamente dalla sua faccia ogni sentimento ogni guizzo una simile condizione distrusse le sue energie e il tormento più spaventoso fu per lui il fatto che alla fine il sonno cominciò ad abbandonarlo per salvare quella sua ultima ricchezza impiegò ogni mezzo aveva sentito che c'è un sistema sicuro per dormire basta prendere l'oppio ma dove trovare quest'oppio si ricordò ad un persiano che aveva un negozio di scialli e che ogni volta che lo incontrava lo pregava di dipingergli una bella donna decise di recarsi da lui pensando che avesse dell'oppio il persiano lo ricevette seduto sul divano con le gambe ripiegate sotto di sé a che ti serve l'oppio gli domandò Piskaref gli raccontò la sua insonnia bene io ti darò l'oppio ma tu devi dipingere per me una bellissima donna e i sopraccigli siano neri e gli occhi grandi come olive e anch'io voglio esserci straiato accanto a lei mentre fumo la pipa capito che sia bella che sia uno splendore Piskaref promise tutto il persiano uscì per un momento e ritornò con una boccetta piena ad un liquido scuro ne versò con cura una parte in un'altra boccetta e la diede a Piskaref con l'ammunizione di non usarne più di sette gocce nell'acqua e gli afferrò la boccetta che non avrebbe ceduto per un mucchio d'oro e corse all'impazzata verso casa appena in casa versò alcune gocce in un bicchiere con dell'acqua e inghiottitara si buttò sul letto Dio quale felicità lei e di nuovo lei incantevolmente seduta vicino alla finestra ad una luminosa casetta di campagna l'abbigliamento aleggiava quella semplicità che solo la mente di un poeta può immaginare l'acconciatura della sua testa creatore com'era semplice quella pettinatura e come ne stava bene la corta treccia gettata con leggerezza sul collo armonioso tutto in lei era modesto tutto in lei nasceva da un misterioso inspiegabile senso del gusto com'era delizioso il suo grazioso portamento musicale il fruscio dei suoi passi e dell'abito così semplice bello il braccio cinto da un braccialetto di crine lei gli parla con le lacrime agli occhi non disprezzatemi non sono affatto quella che voi credete guardatemi guardatemi con più attenzione e dite sono forse capace di fare ciò che pensate oh no 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 chi osa pensare una cosa simile costui poi si destò commosso dilaniato con le lacrime agli occhi meglio tu non fossi mai esistita mai nata potresti essere soltanto la creazione di un artista ispirato io non mi allontanerei dalla tela ti guarderei eternamente e ti bacerei vivrai e respirerei di te come d'un meraviglioso sogno e sarai felice non avrai altro desiderio ti invocherai come l'angelo custode prima del sonno e della veglia ti attenderei ogni volta che dovessi raffigurarmi ciò che è divino e santo mentre adesso com'è spaventosa la vita a che serve che lei viva la vita ad un pazzo è forse piacevole per i parenti ed amici che un tempo gli hanno voluto bene Dio che cos'è la nostra vita un eterno conflitto del sogno con la realtà pensieri del genere lo tenevano incessantemente occupato non pensava a null'altro non mangiava quasi più e con impazienza con la passione di un amante attendeva la sera e la visione agognata la tensione della mente verso un unico punto assunse infine un potere tale su tutta la sua vita e sulla sua immaginazione che l'agonata immagine gli appariva quasi ogni giorno sempre sotto un aspetto contrastante con la realtà attraverso quelle visioni anche l'oggetto in un certo senso si faceva ancora più puro e si trasfigurava del tutto le dosi doppio rendevano ancora più incandescenti i suoi pensieri e se c'era un uomo innamorato all'ultimo stadio della follia in modo precipitoso spaventoso distruttivo tempestoso quest'inferisa era lui di tutte le visioni di sogno una fu per lui la più esaltante di tutte apparve nel suo studio lui era così contento sedeva con tanto piacere con la tavolozza fra le mani lei era lì ed era sua moglie sedeva accanto a lui il grazioso gomito appoggiato alla spalliera della sua sedia e guardava il suo lavoro negli occhi languidi stanchi era scritto il peso della felicità tutto nella stanza respirava un'aria di paradiso tutto era così luminoso così in ordine Dio lei chinava sul suo petto la bella testa non aveva mai fatto un sogno più bello quando si svegliò in un certo senso era più fresco e meno svagato nella sua testa nascevano strani pensieri forse pensava è stata trascinata nella corruzione da qualche terribile avvenimento di cui non ha colpa forse la sua anima tende al pentimento forse vorrebbe strapparsi dalla sua spaventosa condizione e come posso accettare con indifferenza che si perda e per giunta quando basterebbe porzerle la mano per salvarla dall'annegare i suoi pensieri andavano anche più in là nessuno mi conosce diceva a se stesso e chi si interessa di me né io mi interesso degli altri se manifestasse un pentimento sincero e cambiasse vita la sposerei devo sposarla e di certo farei molto meglio di quelli che si sposano con le loro governanti e spesso addirittura con le persone più spregevoli il mio gesto sarebbe invece disinteressato e perfino grande restituirai al mondo il suo più stupendo ornamento concepito un piano così sconsiderato sentì una vampa di rossore salirgli al viso si avvicinò allo specchio e si spaventò delle guance incavate del pallore del volto cominciò con cura ad abbigliarsi si lavò si pettinò indossò un frac nuovo un elegante panciotto poi buttò addosso il mantello ed uscì in strada aspirò l'alia leggera e sentì una freschezza nel cuore come un convalescente che abbia deciso di uscire per la prima volta dopo una lunga malattia e il cuore gli batteva mentre si avvicinava alla via dove non aveva più messo piede dal tempo del fatale incontro cercò a lungo la casa sembrava che la memoria l'avesse tradito percorse due volte la strada e non sapeva di fronte a quale casa fermarsi finalmente una gli parve familiare corse rapidamente per la scala bussò alla porta la porta si aprì e chi gli venne incontro il suo ideale la sua immagine misteriosa l'originale dei quadri che vedeva in sogno la donna per la quale viveva così spaventosamente tormentosamente dolcemente dolcemente lei in persona era dinnanzi a lui si mise a tremare poteva appena reggersi sulle gambe per la debolezza assalito da un impeto di felicità lei stava lì dinnanzi a lui sempre così bella benché i suoi occhi fossero assonnati benché il pallore coprisse il viso non più fresco come lo ricordava ma era lo stesso era sempre meravigliosa ah gridò vedendo piscaref fregandosi gli occhi erano già le due perché quella volta siete scappato via piscaref si lasciò cadere senza forza su una sedia mi sono svegliata adesso mi hanno riportata alle sette di questa mattina ero completamente ubriaca aggiunse con un sorriso meglio fosse muta priva del tutto di favella piuttosto che dire cose simili con quelle parole gli aveva mostrato come in una lanterna magica tutta la sua vita malgrado ciò facendo forza al suo cuore decise di provare se le sue esortazioni avrebbero avuto effetto su di lui fattosi animo con voce tremante nello stesso tempo infiammata cominciò a dipingerle la spaventosa condizione in cui lei si trovava la donna lo ascoltava con aria attenta e con quell'espressione di stupore che sempre manifestiamo di fronte a qualcosa di inatteso e di strano con un sorriso lanciò anche un'occhiata ad una sua amica seduta in un angolo che smettendo di pulire un pettine sarà messa ad ascoltare attenta a quel nuovo predicatore è vero io sono povero disse infine dopo la sua lunga istruttiva predica Piscalef ma ci metteremo di impegno a migliorare la nostra vita non c'è nulla di più bello che essere debitori di tutto solamente a se stessi lavorerò ai miei quadri tu seduta accanto a me ispirerai le mie opere ricamerai oppure ti dedicherai a qualche lavoro di cucito e non avremo bisogno di nulla com'è possibile interruppe lei con un'espressione di disprezzo non sono una lavandaia o una sartina perché dovrai mettermi a fare quei lavori Dio in quelle parole esprimeva tutta una vita abietta spregevole una vita fatta di vuoto e di vanità fedeli compagni della corruzione sposate me disse pronta con tono sfrontato la sua amica nell'angolo che sino ad allora era rimasta in silenzio quando sarò maritata me ne starò seduta così e nel dire questo la sua misera faccia assunse un'aria stolida che fece molto ridere la bella di Piscalef era troppo sopportare questo era al di sopra delle sue forze si precipitò fuori senza più coscienza di sé né pensieri aveva la mente sconvolta follemente senza meta senza vedere senza udire senza sentire nulla vagabondò per tutto il giorno non seppe mai se avesse pernottato in qualche posto oppure no il giorno dopo per uno sciocco istinto tornò a casa sua pallido con un aspetto spaventoso i capelli scarmigliati i segni della follia sulla faccia si chiuse nella sua stanza e non fece entrare nessuno non chiese di nessuno passarono quattro giorni e la sua stanza chiusa a chiave non si aprì neppure una volta passò infine una settimana e la stanza era sempre chiusa a chiave e un seggente alla sua porta iniziarono a chiamarlo ma non vi fu risposta quando la porta venne sfondata fu trovato il suo corpo esanime con la gola tagliata sul pavimento un rasoio insanguinato dalle braccia spasmodicamente aperte e dalla faccia terribilmente contratta si poté dedurre che la sua mano aveva vacillato e che egli aveva ancora lungamente sofferto prima che la sua anima peccatrice lasciasse il corpo così perì vittima di una folle passione il povero Piscaref quieto timido modesto infantilmente ingenuo che forse portava in sé la scintilla di un talento che con il tempo sarebbe divampato in modo ampio e fulgente nessuno pianse su di lui vicino al corpo esanime non si vide nessuno eccetto la solita figura del commissario del quartiere e la faccia indifferente del medico municipale portarono la bara a Ocita in silenzio senza i riti della religione seguendola piangeva solo il soldato di sorveglianza e anche lui perché aveva bevuto un boccale di vodka di troppo nemmeno il tenente Pirogov venne a vedere il cadavere dell'infelice al quale in vita aveva concesso la sua alta protezione per resto egli aveva ben altro da fare era preso da un avvenimento eccezionale volgiamoci pertanto a lui a me non piacciono i cadaveri e i morti e provo sempre un senso di fastidio quando un lungo corteo funebre attraversa la mia strada è un soldato invalido incappucciato annuse del tabacco con la mano sinistra perché la destra è occupata dalla fiaccola sento sempre una specie di disagio nell'anima alla vista di un ricco catafalco o di una barra di velluto ma il mio dispetto si mescola alla tristezza quando vedo un vetturino da noleggio che porta la barra rossa ad un povero priva ad ogni copertura dietro la quale si trascina solamente una mendicante che non ha altro da fare e l'ha incontrata ad un crocicchio abbiamo dunque lasciato il tenente pirogov nel momento in cui si separava dal povero piscarev per precipitarsi dietro la bionda questa bionda era una creatura leggerina abbastanza interessante si fermava davanti a ogni negozio ad osservare le cinture i fazzoletti gli orecchini i guanti e le altre cosette esposte nelle vetrine si rigirava e guardava da tutte le parti e si voltava indietro sai mia colombella si diceva pirogov mentre continuava il suo inseguimento nascondendo la faccia nel bavero del cappotto prima di dire chi fosse il tenente pirogov dobbiamo forse raccontare qualcosa a proposito dell'ambiente a cui pirogov apparteneva a pietroburgo ci sono ufficiali che nella società costituiscono una specie di gruppo intermedio troverete sempre uno di loro a una serata al pranzo di un consigliere di stato o di un consigliere effettivo che si è meritato questo grado con 40 anni di fatiche alcune figlie pallide assolutamente incolori come lo è pietroburgo certune già troppo mature un tavolino da tè un pianoforte balli casalinghi tutto ciò è inseparabile dalla spallina luccicante che brilla sotto la lampada fra una biondina per bene e il nero frac del fratello o di un amico di casa queste ragazze dal sangue freddino sono terribilmente difficili da smuovere e far ridere per fare questo ci vuole o una grande arte o meglio non averne alcuna bisogna parlare in maniera che non sia né troppo intelligente né troppo spiritosa e che in tutto vi sia quel non nulla che piace alle donne in ciò bisogna rendere giustizia ai suddetti signori essi possiedono il particolare dono di farsi ascoltare e di far ridere queste pallide bellezze esclamazioni soffocate dal riso smettetela non vi vergognate a farmi ridere così sono sovente la migliore ricompensa nella classe più elevata essi capitano molto di rado per meglio dire mai ne sono completamente respinti da quelli che in queste società sono chiamati aristocratici per il resto vengono considerati istruiti ed educati amano discorrere di letteratura lodano Bulgarin Pushkin e Grek e parlano con disprezzo e con velenose frecciate di Orlov non si lasciano sfuggire a una sola conferenza forse pure sulla computisteria o addirittura sull'economia forestale a teatro qualunque sia la rappresentazione troverete sempre uno di loro escluso forse soltanto il caso in cui si reciti qualche commedia di Filatka cosa che offenderebbe il loro gusto schizzignoso a teatro vanno in continuazione sono le persone più vantaggiose per le amministrazioni teatrali nelle commedie amano in particolar modo i buoni versi e si divertono anche a richiamare ad alta voce gli attori molti di loro insegnando in istituti statali o preparando i giovani in questi istituti alla fine riescono a farsi un calessino e un paio di cavalli la loro cerchia allora si fa più ampia finalmente giungono al punto di sposare la figlia di un mercante che sa suonare il pianoforte ha un centinaio di migliaia di rubli di dote incontanti e un mucchio di parenti barbuti non possono ottenere tuttavia questo onore prima di aver prestato servizio almeno fino al grado di colonnello perché le barbe russe sebbene ancora puzzino di cavolo non vogliono vedere le loro figlie se non sposate con dei generali o almeno con dei colonnelli tali sono dunque le principali caratteristiche di questo tipo di giovani ma il tenente Pirogov aveva una quantità di altri requisiti che appartenevano in modo particolare a lui declamava magnificamente i versi del Dmitri Donskoy e di che disgrazia l'ingegno possedeva l'arte speciale di emettere dalla pipa il fumo in forma di anelli con tanta maestria da poterne infilare lì per lì una decina una dietro l'altro sapeva narrare piacevolmente la storiella della differenza che c'è fra il cannone e il rinoceronte è difficile insomma enumerare tutti i presi di cui la sorte aveva dotato Pirogov gli piaceva parlare di un'attrice o di una ballerina ma non sfacciatamente come fanno di solito su questo argomento i giovani sottotenenti era molto soddisfatto del suo grado al quale era stato promosso assai di recente e quantunque certe volte nello sdraiarsi su un divano dicesse oh vanità tutto è vanità che ne viene dal fatto che io sia tenente questa dignità in segreto lo lusingava molto nelle conversazioni cercava spesso di accennarvi di sfuggita e una volta che gli capitò per strada un certo scrivano che gli sembrò irrispettoso immediatamente lo fermò e con poche ma brusche parole gli fece notare che aveva di fronte un tenente e non un qualsiasi altro ufficiale espose la cosa nel modo più eloquente in quanto gli stavano passando vicino due signore per nulla brutte pirogov in genere aveva passione per ogni cosa bella e incoraggiava l'artista piscaref ciò è probabile anche per il fatto che desiderava vedere la propria virile fisionomia rappresentata in un ritratto ora basta con le doti di pirogov l'uomo è un essere così sorprendente che non si possono enumerare insieme tutte le sue qualità e quanto più lo si scruti tanto più numerose sono le nuove peculiarità che appaiono sicché a descriverle non si finirebbe mai pirogov dunque non desisteva dall'inseguire la sconosciuta infastidendola di tanto in tanto con domande alle quali la donna rispondeva in modo brusco a scatti e con certi suoni indistinti attraverso la buia porta di katzan invoccarono la via meskanskaya via di botteghe di tabacco e di cosucce varie di artigiani tedeschi e di ninfe finniche la biondina si mise a correre e svolazzò dentro il portone di una casa abbastanza sudicia pirogov dietro di lei la donna corse su per la stretta e buia scala ed entrò in una porta nella quale pure pigolov si intrufolò arditamente si trovò in una grande stanza con le pareti nere e il soffitto affumicato sul tavolo un mucchio di viti di ferro di attrezzi da fabbro di caffettiere e di candelieri luccicanti il pavimento era sporco di limatura di rame e di ferro pirogov intuì subito che si trattava dell'alloggio di un artigiano la sconosciuta svolazzò oltre in una porta laterale per un momento egli rallentò poi seguendo la regola russa si decise ad andare avanti entrò allora in una stanza che non rassomigliava affatto alla prima era rassettata con molta cura così da mostrare che il padrone era un tedesco qui rimase sbigottito da una scena strana veramente insolita davanti a lui stava seduto Schiller non lo Schiller che ha scritto il Guglielmotel e la storia della guerra dei trent'anni ma il famoso Schiller maestro lattoniere della via Mascanskaya accanto a Schiller stava in piedi Hoffman non lo scrittore Hoffman ma il calzolaio piuttosto bravo della via Ufficerskaya grande amico di Schiller Schiller era ubriaco e stava seduto sulla sedia battendo a un piede e parlando animatamente tutto questo non avrebbe ancora stupito Pyrogoth a stupirlo fu la posizione eccezionalmente strana delle due figure Schiller era seduto con la testa rivolta in su in modo da protendere il suo naso piuttosto grosso Hoffman lo teneva per il naso con due dita e su di esso roteava la lama del suo trincetto da calzolaio entrambi gli individui parlavano in tedesco e perciò il tenente Pyrogoth che in tedesco sapeva dire soltanto Goodmorgen non riuscì a capire nulla di tutta quella storia le parole di Schiller d'altronde erano di questo tenore io non lo voglio non ho bisogno del naso io diceva agitando le braccia solamente per il naso mi vanno tre libri di tabacco al mese e in uno schifoso negozio russo perché un negozio tedesco non tiene il tabacco russo e in uno schifoso negozio russo pago 40 copechi la libra questo fa un rublo e 20 copechi e poi fa 14 rubli e 40 copechi capisci amico Hoffman solamente per il naso 14 rubli e 40 copechi e nei giorni di festa fumo del rapè perché nei giorni di festa non ho voglia di fumare schifoso tabacco russo e in un anno fumo due libri di rapè a due rubli la libra 6 più 14 fa 20 rubli e 40 copechi soltanto per il tabacco è un brigantaggio io ti domando amico Hoffman non è così forse Hoffman pure lui ubriaco acconsentiva 20 rubli e 40 copechi io sono un tedesco della svebia ho il mio signorai in Germania non voglio avere il naso tagliami il naso ecco qui il mio naso se non fosse stato per l'improvvisa apparizione del tenente Pirogov senza dubbio Hoffman avrebbe tagliato lì per lì il naso a Schiller perché aveva già messo il suo trincetto in posizione come se volesse ritagliare una suola a Schiller parve assai seccante che improvvisamente una persona sconosciuta e non richiesta lo disturbasse così a sproposito benché fosse in preda degli inebrianti fumi della birra e del vino sentì che era il quanto sconveniente trovarsi in quella posizione e in quell'atto in presenza di un testimone estraneo Pirogov fece un leggero inchino e con la giovialità che gli era propria disse voi mi scuserete fuori rispose Schiller strascicando la voce il tono sconcertò il tenente Pirogov un simile modo di trattarlo gli riusciva completamente nuovo il sorriso che aveva fatto capolino sulla sua faccia improvvisamente scomparve con un senso di dignità amareggiata disse mi pare strano egregio signore di certo voi non avete notato io sono un ufficiale e cos'è un ufficiale io sono un tedesco di Svevia lo stesso nel dire questo Schiller diede un pugno sul tavolo essere stato ufficiale un anno e mezzo Juncker due anni tenente e io domani subito di nuovo ufficiale ma io non voglio servire io con ufficiale fare così fiu e nel dir questo Schiller portò il palmo alla bocca e vi soffiò sopra il tenente Pirogov vide che non gli restava altro da fare che allontanarsi ma il trattamento del tutto sconveniente per il suo grado lo aveva ferito si fermò varie volte sulle scale sconcertato riflettendo su come si dovesse far capire a Schiller la sua impertinenza alla fine ragionò che Schiller si poteva perdonare perché la sua testa era piena di birra inoltre gli tornò alla mente la graziosa biondina e decise di abbandonare all'oblio questo fatto il giorno dopo il tenente Pirogov si presentò di buon mattino nella bottega del mastro lattonaio nell'anticamera l'accolse la graziosa biondina con una voce piuttosto severa che assai si addiceva al suo visino gli domandò che cosa volete salve mia cara non mi riconoscete i ricchine che begli occhietti così dicendo il tenente Pirogov avrebbe voluto sollevarle il mento con un dito la biondina emise un'esclamazione impaurita e con la stessa severità domandò di nuovo che cosa volete vedervi non mi occorre nient'altro disse il tenente Pirogov sorridendo in maniera abbastanza piacevole mentre si avvicinava ma avendo notato che la donna voleva sgattaiolare per la porta soggiunse ho bisogno mia cara di ordinare degli speroni potete farmi degli speroni sebbene per amarvi non occorrano affatto degli speroni ma piuttosto una briglia ma che belle manine il tenente Pirogov era sempre molto gentile quando faceva dichiarazioni di questo genere chiamo subito mio marito gridò la tedesca e se ne andò dopo qualche minuto Pirogov vide uscire Schiller con gli occhi assonnati appena sveglio dopo la sbornia della sera prima data un'occhiata all'ufficiale e gli rammentò come in un sogno il fatto del giorno prima non ricordava bene come precisamente fossero andate le cose ma sentiva che doveva aver fatto qualche sciocchezza e perciò accolse l'ufficiale con aria severa per gli speroni non posso prendere meno di 15 rubli disse per sbalazzarsi di Pirogov perché per lui onesto tedesco era motivo di grande vergogna guardare chi l'aveva visto in una situazione sconveniente a Schiller piaceva bere senza testimoni con due o tre amici e in quei momenti si nascondeva anche ai suoi lavoranti perché mai così caro chiese affabilmente Pirogov lavoro tedesco rispose gelidamente Schiller carezzandosi il mento un russo accetterebbe di farli per due rubli scusate per dimostrare che vi voglio bene e desidero fare la vostra conoscenza pagherò i 15 rubli Schiller era perplesso e proprio perché era un tedesco onesto sentì un po' di vergogna desiderava che Pirogov rinunciasse all'ordinazione e per questo dichiarò che prima di due settimane non avrebbe potuto far nulla senza obiezioni Pirogov si disse d'accordo il tedesco rimase pensieroso e riflettè su come fosse meglio eseguire il proprio lavoro affinché valesse effettivamente 15 rubli in quel momento la biondina entrò nella bottega e cominciò a cercare qualcosa sul tavolo ingombro di caffettiere il tenente approfittò della pensierosità di Schiller si avvicinò a lei e le strinse il braccio nudo fino alla spalla questo non piacque a Schiller ma in frau si mise a gridare was wollen sie doch strillò la biondina viens in cucina la biondina uscì allora fra due settimane disse Pirogov sì fra due settimane rispose sovra pensiero Schiller adesso ho molto lavoro arrivederci passerò da voi arrivederci rispose Schiller chiudendo la porta alle sue spalle il tenente Pirogov decise di non abbandonare i suoi tentativi sebbene la tedesca gli avesse opposto un evidente rifiuto non riusciva a capacitarsi che gli si potesse resistere tanto più che la sua amabilità e il suo brillante grado gli davano pieno diritto all'attenzione occorre dire però che la moglie di Schiller nonostante la sua avvenenza era molto stupida dal resto la stupidità sembra dare fascino particolare ad una donna graziosa io almeno ho conosciuto molti mariti che vanno in estasi per la stupidità delle loro mogli vedendovi segni di innocenza infantile la bellezza produce dei veri miracoli tutti i difetti spirituali invece di causare repulsione in una bella donna diventano chissà perché straordinariamente attraenti il vizio stesso in loro emana leggiadria ma se la bellezza non c'è una donna deve essere venti volte più intelligente di un uomo per ispirare non dico amore ma almeno della stima la moglie di Schiller del resto era sempre stata fedele ai suoi doveri e perciò era abbastanza difficile che Pirogov riuscisse nella sua impresa poiché al superamento degli ostacoli è sempre legata alla gioia della conquista da quel giorno la biondina divenne per Pirogov ancora più interessante cominciò a chiedere spesso notizie dei suoi speroni tanto che questo finì per venire a noi a Schiller in quale fece di tutto per terminare al più presto il lavoro finalmente gli speroni furono pronti che ottimo lavoro esclamò il tenente Pirogov quando vide gli speroni signori Dio com'è fatto bene questo lavoro il nostro generale non ha speroni come questi sulla faccia di Schiller si diffusa un sentimento di soddisfazione e nei suoi occhi comparve uno sguardo di felicità fu così che egli si riconciliò pienamente con Pirogov ufficiale russo è un uomo intelligente pensò fra sé sicché voi dunque potete fare anche una montatura per un pugnale ve lo porterò ho un bellissimo pugnale turco vorrei cambiargli la montatura per Schiller fu come essere colpito da una bomba la sua fronte si corrugò ti sta bene pensò fra sé insultandosi in cuor suo per il fatto di essersi attirato quel lavoro rifiutare era ormai a sua parere disonorevole per di più l'ufficiale russo aveva lodato il suo lavoro dopo aver scosso la testa espresse il proprio consenso ma il bacio che andandosene Pirogov impresse sfrontatamente sulle labbra della moglie gli causò una grande perplessità mi pare doveroso far conoscere un po' più da vicino Schiller al lettore l'uomo era un perfetto tedesco nel piano senso di questa parola fin dall'età di vent'anni all'epoca felice in cui il russo vive alla giornata Schiller aveva pianificato tutta la propria vita e non faceva strappi alla regola per nessun motivo aveva stabilito di alzarsi alle sette di pranzare alle due d'essere preciso in ogni cosa e ubriaco ogni domenica aveva stabilito di raggranellare in dieci anni un capitale di cinquantamila rubli e questa cosa era sicura e inevitabile come il destino perché è più facile che un funzionario dimentichi di gettare un'occhiata nell'anticamera del proprio direttore che un tedesco si decida a cambiare ciò che si è ripromesso Schiller non aumentava in alcun caso le proprie spese e se il prezzo delle patate saliva troppo rispetto al solito non aggiungeva un solo copeco ma semplicemente diminuiva la quantità e quantunque certe volte restasse un po' affamato tuttavia ci era abituato la sua meticolosità si spingeva al punto che aveva stabilito di non baciare sua moglie più di due volte nelle ventiquattro ore e per non baciarla una volta di più metteva soltanto un cucchiaio di pepe nella minestra di domenica tuttavia questa regola non veniva osservata così rigorosamente perché Schiller beveva due bottiglie di birra e una bottiglia di Kimmelen e poi sempre ma le diceva non beveva come un inglese che dopo il pranzo spranga la porta con il catenaccio e si ubriaca da solo al contrario da bravo tedesco beveva sempre in modo ispirato in compagnia del calzolaio Hoffman oppure del falegname Kunz anche lui tedesco e grande ubriacone questo era il carattere del nobile Schiller che alla fine si vede ridotto a una situazione molto difficile benché fosse flemmatico e tedesco le azioni di Pirogov suscitarono in lui qualcosa di simile alla gelosia si rompeva la testa e non riusciva a escogitare un modo per sbarazzarsi di quell'ufficiale russo intanto Pirogov fumando la pipa nella cerchia dei suoi compagni già che così ha disposto la provvidenza che dove ci sono ufficiali ci sono anche pipe fumando dunque la pipa nella cerchia dei suoi compagni alludeva significativamente e con un piacevole sorriso a suo intrigo con la graziosa tedeschina con la quale a sentire lui era già prossimo a concludere mentre in realtà aveva già quasi perduto la speranza di tirarla a sé un giorno mentre passeggiava per la via Neskanskaya sbirciando la casa dove faceva bella mostra l'insegna di Schiller con le caffettiere e il samovar con sua immensa gioia scorse la testolina della biondina che si sporgeva dalla finestrella si fermò e le fece un segno con la mano e disse good morgan la biondina rispose al suo saluto come si fa con un conoscente allora vostro marito è in casa? sì rispose la biondina e quando è che non è in casa? di domenica non è in casa disse la donna questo non è male pensò fra sé pirogov bisogna approfittarne e la domenica seguente si presentò alla biondina come un fulmine a ciel sereno Schiller effettivamente non era in casa la graziosa padrona di casa si spaventò ma questa volta a pilogo fagi in maniera abbastanza acuta si comportò in modo assai rispettoso e facendo un inchino vi si mostra tutta la bellezza del suo apportamento agile e slanciato scherzò in modo piacevole e rispettoso ma la donna a tutto rispondeva con dei monosillabi infine dopo aver affrontato diversi argomenti e aver visto che nulla poteva interessarla le propose di ballare la tedesca consentì immediatamente perché le tedesche sono sempre felici di ballare su questo pirogov fondava grandi speranze in primo luogo alla biondina questo faceva piacere in secondo luogo lui poteva mostrare i suoi modi e la sua abilità in terzo luogo nel ballo poteva starle più vicino abbracciarla e dare inizio a tutto insomma da questo si riprometteva un completo successo cominciò una gavotta ben sapendo che le tedesche hanno bisogno di andare per gradi la donna avanzò al centro della stanza e sollevò il meraviglioso piedino questa posizione entusiasmò a tal punto a pirogov che si precipitò a baciarlo la tedeschina cominciò a gridare e con questo accrebbe ancor di più il proprio fascino agli occhi di pirogov che la tempestò di baci ma ecco che d'improvviso si aprì la porta ed entrò Schiller insieme con Hoffman e con il fagnagname Kunz ubriachi come al solito lascia i lettori giudicare dell'ira e dell'indignazione di Schiller insolente urlò in preda ad estremo sdegno come osi baciare mia moglie sei un mascalzone non un ufficiale russo che il diavolo ti pigli amico Hoffman io sono un tedesco e non un porco russo Hoffman rispose affermativamente io non voglio avere corna prendilo amico Hoffman per il colletto io non voglio continuò agitando violentemente le braccia mentre il suo viso andava assomigliando al panno rosso del suo panciotto sono otto anni che vivo a Pietroburgo in Svevia ho mia madre mia zia sta a Norimberga io sono un tedesco e non carne di vitello cornuto levagli tutto di dosso amico Hoffman tienilo per le braccia e le gambe camarat mio kunz e i tedeschi afferrarono Pirogov per le braccia e per le gambe in vano egli si sforzò di difendersi quei tre artigiani erano la gente più robusta fra tutti i tedeschi di Pietroburgo se Pirogov fosse stato in piena uniforme probabilmente il rispetto per il suo grado e il suo titolo avrebbero fermato ai tempestosi teutoni ma lui era venuto lì assolutamente a scopo personale e privato con un soprabbitino e senza spalline con grandissimo furore i tedeschi gli strapparono di dosso tutti gli abiti Hoffman gli si sedette sulle gambe con tutto il suo peso Kunz la ferrò per la testa e Schiller diede di piglio a un fascio di verghe che servivano da ramazza debò riconoscere col rammarico che il tenente Pirogov venne fusticato assai dolorosamente sono sicuro che il giorno dopo Schiller dovette cadere preda di una violenta febbre tremando come una foglia aspettando da un momento all'altro l'arrivo della polizia che solo Dio sa che cosa non avrebbe dato affinché tutto ciò che era accaduto il giorno prima fosse stato solo un sogno ma ciò che è stato è stato nulla potrebbe reggere il confronto con l'ira e l'indignazione di Pirogov il solo pensare a una così spaventosa offesa lo rendeva idrofobo la Siberia e la fustigazione erano secondo lui una piccola punizione per Schiller volò a casa per recarsi una volta cambiatosi direttamente dal generale ed escrivergli con le tinte più fosche la ribalderia degli artigiani tedeschi contemporaneamente voleva inoltrare anche una richiesta scritta allo stato maggiore se poi lo stato maggiore avesse stabilito una punizione insufficiente allora occorreva rivolgersi direttamente al consiglio di stato e magari all'imperatore in persona tutto questo invece finì in un modo piuttosto strano strada facendo egli entrò in una pasticceria mangiò due pasticcini di pasta sfoglia le giocchiò qualcosa sull'ape del nord e ne uscì che non era più così furioso per giunta la sera fresca e piuttosto gradevole lo indusse a passeggiare per la prospettiva Nevsky verso le nove egli si calmò e trovò che di domenica non stava bene disturbare il generale tanto più che senza dubbio era stato invitato in qualche posto e perciò andò a passare la serata da un direttore del collegio di controllo dove c'era una riunione molto piacevole di funzionari e di ufficiali qui trascorse con soddisfazione la serata e si distinse talmente nella mazzurca che estasiò non soltanto le signore ma persino i cavalieri curioso mondo è il nostro disse a se stesso in che strano incomprensibile modo gioca il nostro destino riceviamo mai ciò che desideriamo raggiungiamo ciò a cui sembrano preparate apposta le nostre forze tutto va al contrario ad uno il destino ha dato degli stupendi cavalli ed egli li usa per andarsene indifferente in carrozza senza accorgersi affatto della loro bellezza mentre un altro il cui cuore arde di passione equina va a piedi e si accontenta di far schioccare la lingua quando gli passa accanto un trottatore quello ha un ottimo cuoco ma purtroppo una bocca così piccola che non può mandare giù più di un paio di bocconi l'altro ha la bocca grande come l'arcata dello stato maggiore eppure deve accontentarsi di un qualsiasi pranzo tedesco a base di patate come gioca stranamente il nostro destino ma più strani di tutto sono gli avvenimenti che si svolgono sulla prospettiva nevski oh non credete alla prospettiva nevski quando la attraverso ora mi avvolgo quanto più posso nel mio mantello cerco di non guardare gli oggetti che mi cadono sotto gli occhi tutto è inganno tutto è sogno nulla è ciò che sembra credete che quel signore che passeggia con un sopravvito ad ottima fattura sia molto ricco neanche per sogno tutti i suoi averi consistono in quel sopravvito vi immaginate che quei due grassoni che si sono fermati davanti a quella chiesa in costruzione stiano discutendo della sua architettura niente affatto parlano di quelle due cornacchie che si sono posate in modo così curioso una di fronte all'altra credete che quel tipo agitato che muove le braccia stia parlando di come sua moglie ha buttato dalla finestra una pallina su un ufficiale che lui non conosce affatto neanche per sogno sta dimostrando in che cosa consistesse il principale errore di Lafayette credete che quelle signore no alle signore credeteci meno che ad ogni altro guardate le vetrine dei negozi i ninnoli che vi sono esposti sono magnifici ma puzzano una terribile quantità di biglietti di banca e Dio vi guardi dallo sbirciare sotto i cappellini delle signore sventoli pure in lontananza il mantello di una bella donna a nessun costo io la seguirò per curiosare lontano per amor di Dio lontano dal lampione e se ci passate vicino fatelo in fretta più in fretta possibile è già una fortuna che non gocciolerà del grasso maleodorante sul vostro elegante soprabito ma lampioni a parte tutto alita inganno mentre ad ogni ora la prospettiva Nevsky ma più che mai quando la notte cala come una massa densa e fa risaltare i muri bianchi e giallastri delle case quando l'intera città si trasforma in un solo tuono e lampo miriadi di carrozze rotolano giù dai ponti i postiglioni gridano sobbalzando sui cavalli e un demone in persona accende le lampade per mostrare ogni cosa sotto un aspetto che non è il suo che non è che non è che non è che non è che non è